Studiare Per molti tedio Per altri di letto Per altri ancora fonte di domande e di riflessione Ed alcuni si chiedono Perché studiare il profumo di una rosa all'interno di quest'aula Quando fuori è primavera e quel dolce odore ovunque imperversa? Eppure, per tutti rimarrà la favola di bellissimi esotici viaggi Con cui la scuola ci accompagna ad ogni esame della vita Eppure, per tutti rimarrà la famiglia